La storia si studia come sappiamo sempre ogni anno e quindi anche Mario Rigoni Stern che è un tratto importante dell'altopiano, della nostra cultura, della nostra identità e della storia legata ai tristi fatti della seconda guerra mondiale vanno ricordati. Mario Rigoni Stern è conosciuto non solo in Italia ma in tutto il mondo quindi noi come altopianesi abbiamo l'obbligo, il dovere ma anche il piacere di ricordarlo. La storia prende vita anche attraverso il cinema e il racconto breve di Mario Rigoni Stern intitolato Un Natale del 1945 diventerà un film le cui riprese entrano nel vivo proprio nei prossimi giorni in altopiano. Il fulcro della produzione è Gallio da dove le troupe del regista Fabio Rosi, gli attori protagonisti e le comparse si muoveranno per girare le prime scene. Un allenamento per la memoria ma anche un vanto per il paese. Ringrazio appunto Sergio Sambugaro il presidente di Gallio Film Festival che si è giudicato questo importante e storico e primo progetto che vede Mario Rigoni Stern e i suoi racconti trasformati in un film. L'amministrazione di Gallio ha deciso di esporsi per questo progetto che però riguarda l'intero altopiano e che andrà a portare ulteriore lustro a un territorio di grande importanza dal punto di vista storico, ambientale e turistico. Noi siamo partner anche economici di questo progetto e ne siamo fieri con la speranza che anche qualche altro comune possa metterci dei soldini per sostenere la produzione di questo importante progetto.